allora sono in una parte multicorpo con due corpi questo corpo e quest'altro corpo adesso voglio spostare questo corpo qua in questa zona qua questo punto uso il comando sposta corpi invece di andare a usare potrei usare traslazione o anche vincoli rotazione poi vincoli però anche nella traslazione c'è questo comando molto interessante allora clicco sul solido che voglio spostare e poi vado direttamente qua invece che dare le coordinate cortesiane e vado a prendere questo punto qua per esempio a questo punto mi si apre questa finestra mi chiede l'altro punto del corpo che voglio andare a a rendere coincidenti questi due punti dunque seleziono questo e in automatico lui mi crea la parte qua metto in via e mi sposta la corte la parte da qui a qui